MyArt è una velatura decorativa microcristallina per interni che crea sulle superfici brillanti e suggestive sfumature multicolore, variabili secondo l'incidenza della luce. Prima della finitura con MyArt, devono essere applicati a rullo due strati di DecorFond opportunamente diluito. Risultano indicati come base decorativa i prodotti Bravo Casa, Marco Polo, Cadoro, Unimark smalto murale opaco, rilievo nella tinta desiderata. Una volta asciutta la base decorativa, diluire MyArt con un massimo del 10% di acqua se necessario. Applicare MyArt con il pennello, lavorandolo fino ad ottenere il disegno voluto. Si possono stendere uno o più strati secondo l'effetto desiderato, attendendo la completa essiccazione tra uno strato e l'altro. Altri tipi di finitura possono essere realizzati secondo la fantasia dell'applicatore, utilizzando anche un guanto a pelo corto, spugna o tampone. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS